E' uscita anche un'ansa, tra poco la leggeremo sulle condizioni di Cassano, andiamo da Sara a leggere qualche messaggio. Alfredo da Frosinone ci scrive, forza cappellaio matto 99 non mollare mai, questa frase la dico ogni giorno a mio fratello Stefano di 25 anni, quasi tuo coetaneo, che sta lottando come un leone per uscire da un coma. Lui per il Milan impazzisce, forza Milan da Giuseppe e poi forza Antonio fai il gol più importante, un abbraccio in bocca al lupo. Antonio forza a recuperare il tuo stato di forma, sei l'unica persona che esprime sempre allegria ovunque tu sia. E ancora i medi hanno diritto di informare ma ogni persona ha giustamente diritto alla propria privacy come in tutte le cose della vita, non bisogna mai esagerare. Un personaggio spacciato, strafottente, maleducato, volgare eccetera improvvisamente diventa fragilissimo. Venta fragilissimo e tutti quanti scopriamo che c'è, come si dice, del tenero, c'è anche l'uomo, per fortuna. Ma perché lo ravvicina a questa situazione? No, ma per quello che ho detto che per lui sarà importante, una volta uscito dall'ospedale, capire che questa è la vita. Non voglio citare lo Sky White, però la vita è veramente tutto quello che capita mentre ti stai occupando di altro. Tu stai facendo una cosa e ti capita. Ipotesi ombrellino. Andrea Lovato. Allora, permangono stabili e senza sintomi le condizioni di Cassano, colpito da un fenomeno vascolare ischemico transitorio. I medici continuano a indagare sulle possibili cause del malore. Una di queste potrebbe essere stato un piccolo embolo che ha raggiunto il cervello con la complicità di un lieve difetto del cuore. In questo caso si potrebbe intervenire sul cuore per correggere quel difetto e tappare il buco con un ombrellino meccanico. A questo punto mi sono di rispondere a una domanda, cosa aspettiamo a fare il comunicato domani congiunto del Milano dell'ospedale, visto che di fatto le notizie... Ma queste sono letture di medici, di esperti, che guardano da osservatori dell'ONU un fatto che sta accadendo... Una domanda, comunque, la situazione è abbastanza chiara. Sì, non lo so, ma comunque la situazione è abbastanza chiara. Mi sembra ormai, mettendo insieme frasi dette anche da ambienti rossonei, la situazione è abbastanza chiara. L'ictus c'è stato. Ora stanno cercando di capire qual è la causa che ha provocato questo lictus. Il transitorio. Anche lì è da valutare che danni ha fatto. Speriamo che non abbia fatto alcun danno. Anche perché... Ma soltanto il decorso può capire. Cioè, è la causa soprattutto. Perché gli è venuto lictus? Anche perché comunque danni al cervello. Se è veramente questa evoluzione cardiaca o no. Quindi ormai la situazione, anche senza comunicato, mi pare ormai definita. Anche perché i potetici danni al cervello sono irreversibili. Perché comunque la massa celebrale, le cerebrali della massa celebrale, sono le uniche che non si riproducono rispetto alle altre del corpo. Quindi se arriva... Ma servirà il comunicato di domani, secondo te? Perci capire in parte se può tornare a casa o no. In parte, guarda, Fulvio, io ti dico, secondo me, l'ipotesi che ho fatto, cioè una conclusione che sto traendo, è più un comunicato chiarificatore, ma è più un comunicato pro forma, passiamo il tempo per i tifosotti. Per dire che non è più in pericolo. Cioè, nel senso che comunque i tifosi... Dovranno dire innanzitutto che non è più in pericolo. Esatto. Perché in pericolo lo è stato. Il tifoso medio, se sente da me o comunque da chi è sotto il Policlinico determinati aggiornamenti, dice sì, però sono confutabili, sono diciamo smentibili. Un comunicato ufficiale congiunto del Policlinico e del Milan ti dicono ma qual è la posizione ufficiale. Quindi sono varie forme e servirà anche un pochino per far abbassare i toni intorno a questa... Ma non sarà l'unico comunicato, ce ne saranno altri i bollettini. Certo. E non è che domani, quando il bollettino è finito, il cassano va al cinema e... Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo per rispondere a una domanda, tornerà a giocare. Dobbiamo aspettare che l'uomo torni in attività, non il calciatore in attività, che l'uomo torni in attività. Anche perché... Ecco perché all'inizio parlavo di rispetto. Certo. Se invece dobbiamo mettere... Io spero che non ci siano casi particolari di condore di iene attorno alla camera di cassano. In che senso? Qualcuno che vada lì a fare la fotografia, qualcuno che cerchi di strappare l'intervista in esclusiva, eccetera. Quelle cose che ovviamente si fanno con i personaggi. Però perché qualche tempo fa è morta Annie Weinhaus, la prima cosa, drogata persa, si è fatta di cocaina fino alle 3 di mattina e poi si è scoperto lentamente. Che non aveva preso nemmeno un grammo di cocaina, non c'era l'eroina, eccetera. Era solo alcol. Aveva preso dell'alcol. Era vicino al terzo cuore intanto. Però intanto era morta. Vedi Stefano, l'intrusione del tifoso di ieri. Ma va letta in una chiave diciamo quasi umoristica. No, ma questo è un altro discorso. Stavo parlando di Iene e Conto, stavo parlando di quelli che rubano la fotografia. Come Stefano diceva l'intrusione del tifoso. Va vista anche come una sorta di, non lo so, come una sorta di portabandiera del popolo milanista che si è voluto far sentire la cosa, tant'è che la curva ha piazzato uno striscione fuori dal policlinico che facendo, sì, comunque facendo vedere, facendo sentire il proprio apporto anche da parte del tifo organizzato che comunque anche oggi a Minsk ha fatto vedere questo striscione. Quindi diciamo che questo episodio è una cosa simpatica, tenendo conto anche poi il commento che ha fatto, mi aspettavo più tifosi fuori sotto quel punto di vista, magari gli si può dare anche ragione. Ma queste sono quelle che mi angosciano, non è quella dello striscione. Sì, ovvio, ovvio. Questa vicenda mi ha angosciato, non so voi magari, voi no. Ma Tony, sai perché? Perché mi ha angosciato? Perché c'è stato in diretta televisiva un uomo di calcio che è morto. Certo, fuori. Franco Scoglio, è morto in diretta televisiva, passando dalla vita, dal dialogo, dai suoi pensieri al nulla. E tutti quanti siamo io, quella sera lì ho dovuto addirittura scrivere alle undici di sera un articolo veloce su questo. Dinanzi a una cosa del genere, cosa fai? Cosa fai? Sei disarmato. Non è l'infortunio, ti ripeto, l'incidente automobilistico, tutto il resto. Sei disarmato e sei angosciato. Ecco, sono andati i tifosi, rivediamo per cortesia Luca, sono andati i tifosi oggi a trovare, cioè sono andati i tifosi, pardon, fuori dal Policlinico, ma alcuni giocatori anche dell'Inter, vediamo in questa foto Pazzini, sono andati a trovare Cassano oggi, lo Sappio. Esatto, queste sono le foto appunto del fotografo ufficiale che è lì al Policlinico da parte di tutto il mercato web, è chiaro che poi anche Pazzini sta dicendo che probabilmente si rimetterà a breve Cassano e ci ha parlato, ha scherzato, quindi Cassano comunque continua con la sua vena ironica. Sono testimonianze di solidarietà da parte dei colleghi, da parte dei giocatori, cosa deve dire il giocatore? Il giocatore è chiaro che non lo sa se Cassano, se lo augura da collega Pazzini, collega di Nazionale, se si augura che Cassano ritorni a giocare, ritorni presto in campo. Il problema è un punto interrogativo, ci vorrà del tempo, al di là dei bollettini, ci vorrà del tempo perché non dimentichiamoci che, se è un problema di cuore, il recente passato in Italia, dal caso Canu, che in Italia... A Fadigà, anche Fadigà. Fadigà, cioè giocatori ai quali non è stato dato il permesso, non è stata data l'idoneità in Italia, mentre invece in Inghilterra gli è stata data... O in Spagna, ti ricordi che era... Andrea, mi aiuto, Puerta e l'altro, quello del spagnolo... Puerta è morto sul campo. No, ma anche quello del spagnolo è morto sul campo. Oppure è un ragazzo che giocava ai miei tempi, un giocatore che giocava ai miei tempi, che era Lionello Marfadone, non so se ve lo ricordate, a Bologna. A Bologna non ha più giocato. Cioè ci sono dei casi, però è difficile fare nell'anticipazione adesso. Non aspettatevi neanche dal comunicato di domani, che sciolga questa situazione. Adesso qui non è che è la battaglia del comunicato. Il discorso è, la cosa che colpisce di Cassano è ovviamente l'incredibile beffa del destino che colpisce un giocatore che ha sempre avuto una vita un po' discutibile, eccetera, proprio nel momento in cui mette, tra virgolette, la testa a posto, inizia a fare tutto quello che fa e lo becca sta roba. Certo, ripeto, l'interrogativo che si pongono oggi tutti è tornerà a giocare. La vedo molto lunga. Tra poco leggeremo il comunicato del professor Casasco, intanto lo sappio... E' anche Antonini comunque che è andato a trovare Antonio Cassano. Antonini che è poi compagno di squadra di Cassano. Però volevo anche chiedere un'altra cosa. Se questo difetto non è visibile negli esami, come fai a dare l'autorizzazione per giocare? Allora, proviamo a darti una risposta, Andrea Lo Sappio. Mi fate vedere per cortesia il cartellografico, i tempi del reentro, quella dichiarazione di Casasco. Un calciatore colpito da ictus ischemico può tornare a giocare, ma solo se ha un completo di pristino delle funzioni fisiologiche. Esistono leggi che lo chiariscono. Dopo il parere del neurochirurgo e dopo i controlli con la risonanza magnetica ed eventualmente anche con l'attacca, sentito anche il parere di un medico sportivo, ma soprattutto sotto la responsabilità del medico sociale, allora si può procedere. Bucchioni. Questa è tutta teoria. Questa è tutta teoria e bla bla. Innanzitutto se io fossi un medico mi starei molto fuori da una vicenda del genere non conoscendola. Quindi anche se il presidente Casasco dei medici sportivi, senza documenti in mano, io non avrei parlato. Lui l'ha fatto dicendo delle banalità che non aggiungono nulla a nulla. Cioè questo è il regolamento. È chiaro che non sei idoneo, non giochi al calcio. È come l'acqua calda. Bisogna vedere cosa ha realmente Cassano. E non saranno tempi brevissimi. Perché se c'è bisogno di un intervento, se c'è bisogno poi di un'ulteriore verifica, e quindi noi gliel'auguriamo tutti quanti noi, però, ti ripeto, la situazione in questo momento non è assolutamente chiara. E neanche di facile lettura da parte dei sanitari. Come facciamo a dirlo noi? Assolutamente. Che secondo te anche il comunicato di domani non chiarerà? No, domani ti dirà, secondo me, che l'uomo non è più un pericolo di vita. Che sono state chiarite le cause che hanno provocato questo dal punto di vista fisiologico. Cioè i medici domani ti diranno che sanno cos'è accaduto. Io lo spero. E poi da qui dovrà cominciare la procedura di recuperare la corretta fisiologia dell'uomo. E poi successivamente di verificare l'ipotesi di un ritorno in campo. Quindi è una questione non semplice. Perché il fatto è stato grave. Cioè tutto quello che è successo domenica ti deve dire che il fatto è stato grave. Assolutamente. Ma Zara, vorrei aggiungere qualcosa? No, ma la sostanza è quella che comunque adesso bisognerà vedere anche se il dottor Tavana si prenderà comunque una responsabilità così grossa dinanzi a questi accertamenti. E se se la potrà prendere è soltanto alla fine di un lungo periodo comunque nel quale Cassano dovrà fare determinati accertamenti, dovrà fare delle terapie. Ma perché se la deve prendere Tavana? Perché è il medico sociale. E' lui che comunque dà il benestare. Ma dopo. Ma dopo. Dopo. Dopo, esatto. C'è sostanzialmente quello. Poi adesso vedremo un attimino anche... A livello generale l'ambiente comunque non è serenissimo. Perché comunque è una cosa che potrebbe capitare a tutti. C'è una cosa che è un fattore treguente fisiologico. Un'altra cosa. Lo dico ai tifosi e noi siamo tutti tifosi. Oltre a tutto Cassano è un nazionale. Cioè è più importante che Cassano stia bene. C'è quello che è la premessa che ho fatto. Voglio dire, adesso noi tutti ci auguriamo che torni a giocare. Ma la cosa più importante non è questa. Cerchiamo di ridare una giusta dimensione alle cose. Altrimenti ci perdiamo. Adesso dobbiamo lanciare un super spot con Sara. Naturalmente dovremmo occuparci anche della parte sportiva. Anche perché noi siamo una trasmissione sportiva. E dobbiamo cercare di capire anche come il Milan opererà nel prossimo periodo. Anche alla sostituzione di Antonio Cassano. Andiamo da Sara. Sì Stefano, ora ci fermiamo per un super spot Michelin. Mi raccomando, restate con noi.